Vediamo ora la costruzione di uno script con Scratch, una sequenza di istruzioni che andrà a disegnare nello stage un quadrato. Partiamo dal nostro solito quando si clicca su bandierina verde, dopodiché andiamo in penna, scegliamo pulisci e quindi penna giù. Dopodiché andiamo in controllo perché utilizzeremo il comando ripeti, naturalmente dobbiamo disegnare un quadrato quindi andremo a ripetere 4 volte le istruzioni che andremo a posizionare all'interno del blocco e saranno due istruzioni in questo caso. La prima è fai 10 passi e lo cambiamo in 100 passi, dopodiché prendiamo il blocco ruota a sinistra di 15 gradi e gli diciamo ruota di 90. A questo punto andiamo di nuovo in penna e scegliamo penna su. Facciamo una prova e Scratch ci disegna un quadrato. Facciamo qualche piccolo ritocco al nostro piccolo script e aggiungiamo il controllo attendi 1 secondi in modo tale da vedere il disegno di ogni lato, così rallentiamo la costruzione del quadrato. Riproviamo e vediamo che adesso ci disegna lato per lato in maniera più lenta.